Domenica intorna in pista con la sua nuova puntata. Il decimo appuntamento con protagonista Mara Venier, si aprirà con un ricco talk show dal titolo Esiste il principe azzurro In onda sulla rete Ammiraglia di Casarai a partire dalle 14, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, ci sarà modo di discuterne con tanti ospiti Al fianco della conduttrice, troveremo Guillermo Mariotto, Simona Izzo, Alba Parietti e le giornaliste Candida Morvillo e Azzurra della Pena Scopriamo a seguire, tutte le anticipazioni. Grande attesa anche per l'arrivo di Antonella Clerici, protagonista di Portobello al sabato sera Durante una intervista da Maurizio Costanzo, l'ex conduttrice della Prova del Cuoco, aveva raccontato dei passati litigi proprio con la Venner, con Mara ho fatto delle litigate storiche Una litigata a Domenica in che tremavano i muri, perché io venivo dal successo della Prova del Cuoco e quindi erano anni di crescita professionale importanti Lei tornava a Domenica in dopo un lungo periodo di assenza, chiaramente metti due prime donne insieme, qualcosa deve succedere Vedremo se questo pomeriggio, le due conduttrici sveleranno qualche retroscena inedito Domenica in, anticipazioni e ospiti.Antonella Clerici, ospite di Mara Venner durante Domenica in, dopo l'intervista si sfiderà in una simpatica prova culinaria, riuscire a stendere la sfoglia perfetta Giudice eccezionale sarà proprio l'ex chef della Prova del Cuoco Daniele Persigami Per lo spazio dedicato alla musica, ci sarà modo di ascoltare Emma Marrone, uscita proprio questo venerdì con Essere Qui, Boom Edition La cantautrice Salentino sarà seguita da un nutrito gruppo di estimatori M. Oltre a raccontarsi in una intervista con Mara Venner canterà il suo ultimo singolo mondiale Come sempre nel corso della trasmissione della Domenica, i telespettatori da casa potranno giocare in diretta al quiz del tabellone Altro spazio interessante sarà quello dedicato all'attore Claudia Mendola, che interverrà per presentare la nuova serie TV di Rai Uno Nero a Metà, in onda da lunedì 19 novembre in sei puntate In ultimo, per lo spazio dedicato alle storie di donne, la conduttrice intervisterà la signora Rita Lanzini, mamma di Federica del Luca e nonna del piccolo Andrea, uccisi nel 2016 a tanto dal marito di Federica e papà del piccolo Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Iscriviti per non perdere le novità